Conta la rovescia per l'apertura dei punti di primo intervento attivati a Fiorenzuola e Cassè San Giovanni. Si parte lunedì 15 giugno. Come deciso in conferenza sociosanitaria, l'ASLA ha creato queste aree per sgravare i cittadini delle due vallate dall'onere di raggiungere l'ospedale di Piacenza per problemi di salute minori. I punti saranno aperti 12 ore, dalle 8 alle 20 e vedranno la presenza costante di un medico, infermieri e operatori sociosanitari. I cittadini verranno accolti al triage dove verrà valutato il profilo di rischio di un'eventuale presenza di infezione da coronavirus. Qualora fosse rilevata la possibilità che il cittadino sia positivo o sospetto positivo, la persona verrà ricoverata in un'area completamente isolata del reparto dove attendere il trasporto al pronto soccorso di Piacenza per il successivo ricovero nell'ospedale cittadino. I punti di primo intervento possono contare sulle consulenze diagnostiche avanzate dei reparti di radiologia dei due presidi. Le equip di professionisti sono in grado di trattare ogni evenienza ma entrambi i primari, Bernardo Palladini responsabile del reparto di Fiorenzuola e Cristina Maestri di quello di Cassè San Giovanni raccomandano di chiamare per quanto possibile il 118. Questo vale soprattutto quando ci sia sospetto di essere affetti da patologie quali infarto o ictus rispetto alle quali il tempo di inizio della cura può fare la differenza. Luca Baldino, direttore generale dell'azienda OSL di Piacenza, ribadisce ai cittadini che non viene assolutamente messa in dubbio la funzione di pronto soccorso dei due ospedali. Entrambi riprenderanno al più presto la loro attività H24, esattamente come nel periodo precedente la pandemia.